Ruggiflex, ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. Si è tenuta la scorsa settimana l'assemblea elettiva di Ausino S.P.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato nella città di Cava dei Tirreni e in altri 23 comuni dell'ambito territoriale area costa d'Amalfi, che include complessivamente 26 comuni dell'area nord del distretto Sele e del lato unico campano. Dopo lunghe giornate di trattative, Mario Anagrusta è stato riconfermato presidente dell'Ausino per il quarto mandato consecutivo. La novità è rappresentata dal numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che passa da 3 a 5, con l'obiettivo di rappresentare maggiormente i territori sui quali opera la società. Oltre al presidente Agrusta, che rappresenta Cava dei Tirreni, il CdA è composto da Luigi D'Antuono, consigliere comunale di Tramonti, Luca Sorrentino per il comune di Salerno, Esther Sapere per Baronissi e Teresa De Meo, espressione del comune di Montecorvino Pugliano. Agrusta ha precisato che non ci sarà alcun incremento dei costi di gestione per l'aumento per il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La scorsa settimana c'è stata l'Assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Con grande soddisfazione è stata confermata la mia persona quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è stato rinnovato anche sotto l'aspetto numerico, perché si è passati da un CdA a 3 componenti a un CdA a 5 componenti, questo per dare una maggiore rappresentatività ai territori gestiti dalla società, per cui sarà rappresentata all'interno del Consiglio di Amministrazione ogni area gestita, l'area della Costiera Amalfitana, l'area dei Picentini, l'area del Valle dell'Irno e l'area cittadina di Cava e Salerno. Per cui ovviamente l'ampliamento numerico del CdA non andrà a comportare un aumento dei costi, perché il costo complessivo dell'organo rimarrà invariato. Il riconfermato Presidente di Ausino inoltre si è soffermato sugli obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio. Gli obiettivi per il futuro sicuramente è quello di rendere il servizio sempre più efficiente e che possa incontrare un livello di soddisfazione dell'utenza sempre maggiore, con un'attenzione alla sostenibilità e alla cura dell'ambiente, soprattutto alla salvaguardia della risorsa idrica, che come ben sappiamo non è illimitata. Sotto l'aspetto operativo e gestionale, uno degli obiettivi è anche quello di provare a assumere la gestione anche negli ultimi due comuni che rientrano nel perimetro territoriale assegnato alla società e nei quali ancora ad oggi non è svolto il servizio, quindi il comune di Giffoni, Valle Viana e di Acerno.